Il sindaco di Campagna, Roberto Monoco, in piazza Melchiorri Guerriero, nel cuore del centro storico, ha presentato la nuova giunta. Ecco nel dettaglio le deleghe. Maria Santoro, vice sindaco con delega agli affari legali, Adele Amoruso, assessore all'ambiente, Liberata Mirra, assessore alle politiche giovanili. Poi troviamo l'architetto Raffaele Naimoli, assessore ai lavori pubblici e il dottor Antonino Persano, assessore al bilancio. Per la carica di presidente del Consiglio Comunale, il nome più quotato è quello di Cosimo Tommasiello, il consigliere più votato di tutti, 385 preferenze. I tre eletti consiglieri comunali lasciano i loro posti rispettivamente a Pietro Magliano ed Elisabetta Granita, figlio dell'ex sindaco Ettore e a Liberato Mirra.